Ancora un nulla di fatto per quanto riguarda la nomina dei presidenti delle partecipate della Regione Abruzzo. I capigruppo, proprio ieri, hanno conferito le deleghe al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, per procedere alle nomine dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di competenza del Consiglio regionale. Le cose sono da fare, però credo che insieme con i capigruppo di maggioranza, e in particolare con il capigruppo Verrecchia con cui stiamo discutendo appunto di questo, nell'arco di poco tempo saremo in grado di ascoltare le opposizioni, settare le terne con le presenze di generi opposti e offrire una buona classe dirigente all'Abruzzo in grado di governare e risolvere i tanti problemi che abbiamo nei vari settori di nostra nomina. Devo dire che nella passata legislatura perlomeno il mio giudizio è stato positivo sulla sta grande maggioranza di essi. È chiaro che sono talmente tanti problemi che anche la ricerca dei migliori curricula è un dato che noi dobbiamo gli abruzzessi, ma lo faremo anche perché il presidente Marsiglio è particolarmente attento su questo tipo di scelta, quindi non c'è possibilità di errore. Ovviamente anche le opposizioni dovranno contribuire a fare con me le scelte migliori, non è solo una competenza di maggioranza, è anche una competenza delle opposizioni.